Sì, ero dove? Sì, ero dove? Non prima non c'era. Noi venivano su, provo in notte, e tutto il spazio da tornare in tutto l'antica. C'è un'altra regolina cosa, che venivano la porta. E noi venivano qui, tanti volte, e si è parlato di lei, come parlò di spedere la plamba, che si è partaglia sui ciasci. E noi tocchevano il passio da un testo, tutti, avevano una tasca di Mark Schulz. E noi venivano a l'entra, e noi venivano l'entra, e noi venivano un passio da un'altra corda. E noi venivano un passio da un testo, e noi venivano tratte. E noi venivano un'altra e noi venivano un'e. La lina Settemi, stai in realtà. 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 Settemi, stai in realtà.